Quando si trova veramente la sinergia e la maturità, sottolineo, di condividere un'esperienza vuol dire che c'è stato uno scarto proprio culturale, motivazionale, importante, di cui oggi noi vedremo un frutto, che è questo bellissimo spot per cui vi complimento con chi lo ha realizzato, perché ha un impatto importante in chi lo vede, è qualcosa che fa riflettere sulla propria esistenza, su quello che siamo, su quello che abbiamo vissuto, e magari non denunciato, non raccontato più i doveri.